Ciao a tutti! Eccoci con la seconda parte del video. Niente, io inizierei subito. Iniziamo da queste qua più semplici. Le rose. Vediamo se sono riuscita a fargli fare meno bolle. Direi proprio di sì. Che bella, bellissima. Sì, anche qua c'è tanto viola. Portate pazienza. Allora, rosa. Rosa. Poi, fiocchetti come se non ci fosse un domani. Fiocco. Belli questi stampi. Se vi interessa, li ho presi da Aliexpress, visto che mi è stato chiesto. Piccinino. Questo qua. Bellino. Sì, sono opachi. Vengono opachi. Però... Bello. Bellissimo. Poi, questo stampo che mi è stato regalato da una carissima amica. Anche lei è una creatrice. Magno. Lucidissimo. Li dovrò colorare le mani di topolino. So che i colori non sono giusti, ma... ho voluto collare... Ho fatto troppo viola. Sbrilluccicosissimo. Yeeeh. Metti a fuoco però. Yeeeh. Eccolo qua. Poi. Zampine. Eccole qua. Sono più piccole delle altre. Anche queste qua sicuramente verranno opache. E vediamo. Queste qua... E' la prima... Ecco, infatti. Già qua c'è un difettino. E' la prima volta che uso anche questo stampo. Vediamo. Ecco. Qua ha fatto disastro. E' colato fuori. Fa niente. Questa qua la tengo per me. Allora. Vediamo se sono tutte... Allora. Praticamente sono uguali alle altre grosse che avete visto nell'altro video. Solo che sono più piccole e nene. Carine. Molto carine. Poi... Nere. Ok. Dunque. Sì. Il nero purtroppo non risalta con i brillantini. Magari proviamo. Questo qua veramente. Proverò a fargli una colata di resina sopra. Vediamo come viene. Sì. Qua abbiamo sbavato. Sono più belle quelle bianche. Però sono carine. Dai. Poi. Ci sono altre. Con gli sticker. Dunque. Vediamo. Ah ok. Queste qua sono... I filli butterfly. Mi sono tagliata il coso. La figura. E me la sono... Ce ne sono tre coi filli. Sì. C'è questo. E anche questo qua al filli. Eccolo qua. Sì dai. Carino. E anche uno dei due qua che non so quale sia. Vediamo se è questo. No. Oh mio Dio. Stupendo. Il budinetto. Il paninino. E il gelatino kawaii. Direi che... Bello. Molto bello. Questo qua il portachiave ci sta più brutto. Bellissimo. Così. Allora il filli è dentro qua. Anche se penso che questo qua sarà pieno di bolle. Perché lo sticker fatto da me era tutto spiegazzato. che è la parte davanti della bustina. Vabbè dai. Appena appena. Si vede o non si vede. Almeno secondo me. Bello. Mi piace. Sì sì. Bello sbelluccicoso. Bene. Questo video anche per oggi è finito. Io vi saluto con questo che è bellissimo. Va bene. Io vi saluto. Vi ringrazio per avermi vista. Se il video vi è piaciuto lasciate un like. Se non vi è piaciuto lasciate un non mi piace. Magari ditemi anche perché i miei video non vi piacciono. E se i miei video vi piacciono iscrivetevi. Io sono qua. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao. Grazie.